Buongiorno a tutti e bentornati. Oggi parleremo di un'attività che ci occuperà per le prossime settimane, quella del coding. La attività del coding non è altro che scrivere dei piccoli programmi informatici attraverso delle piattaforme. Noi useremo questa, quella dell'ora del codice, cod.org, che è una piattaforma internazionale in lingua italiana che è usata da più di 180 paesi al mondo. Cosa farà? Lo vedremo nei prossimi minuti. L'importante è come raggiungerla. Allora io vi darò un link diretto che vi farà saltare molti dei prossimi passaggi e avrete anche una password. Però se qualcuno ha perso il link diretto vi faccio vedere come si fa. Basta andare in google, scrivere code.org e il primo dei risultati vi porta direttamente al sito. Dovebbe essere già in italiano. Se non fosse per caso in italiano, perché avete la tastiera, settatemi la diversa, basta andare qua in fondo e settate la vostra lingua. Andiamo su accedi e qui ci sono due metodologie, o con una mail a password o col codice classe. In questo caso io ve lo darò, ad esempio questa è una classe, ad esempio non è certo quella che userete voi, e andate in go. Qui nel momento che siete nella classe troverete il vostro cognome e nome. Ad esempio, che ne so, facciamo lo studente 10. Per entrare dentro devi scrivere due parole segrete che io ti ho dato nel registro elettronico. In questo caso qua vado a vedere per lo studente 10, le password sono esattamente seeds key. Sono in inglese ma sono molto corte. Ve le scrivo qua e scrivo accedi. Nel momento che accedete dovete accettare l'utilizzo della privacy e dopo obbligatoriamente mettere la vostra età, che sarà probabilmente 12 o 13, vedete voi. Andate avanti e finalmente troverete nella console di gestione dei vostri corsi. Allora, qui come vedete ci sono parecchi corsi, non li faremo tutti ovviamente, farete solo quelli che vi indicherò io. Però partiamo dal più facile, quello con Angry Birds, per farvi vedere come funziona questa piattaforma. Andiamo, se vedete il numero 1 è sempre un robot, ciò vuol dire che non è un esercizio, ma è un'introduzione. Un'introduzione a quello che dovete fare. Perché non ho tempo di farvelo vedere e qui nelle prime volte avete già anche dei suggerimenti. Devi risolvere questo, collega tutti i blocchi e dopo alla fine premi il tasto esegui, che è anche questo dato da quel tipo di suggerimento. Ad esempio il nostro Angry Birds qua deve fare un passino in avanti e il secondo per andare a beccare il procedimento. Per cui, cosa succede? Questa è l'area dove dovete eseguire il codice che dovete, come avete visto, non è da scrivere, ma è già fatto con dei blocchi che vanno semplicemente uniti. Questa invece è l'area del quiz. Dovete capire da qui cosa succede. Questi blocchi qua è l'area dove potete tirare nella vostra area di lavoro nuove istruzioni. In questo caso ci sono. Vai avanti e potete anche cancellare in questa maniera. Allora qui ce ne erano già due. Avete visto? Allora come si fa? Bisogna attaccarlo sul comando esegui. Allora quando si clicca su esegui vado avanti in colpetto e poi vado avanti sull'altro il giochino. Posso vedere che codice vero e proprio ho scritto move forward due volte e posso andarmene avanti. Non è obbligatorio guardarsi il codice ovviamente. Ecco qua il secondo è la stessa cosa. Solo che stavolta bisogna andare avanti di tre. E così via. Non sto lì a farvelo vedere. Stiamo invece direttamente a quello dopo che è più interessante perché ha dei blocchi neri. I blocchi neri sono quelli obbligatori che ci devono essere. Quindi vi danno già un vantaggio. Questi qua non dovete tirarli via. Dovete o aumentarle o diminuire quelli che non sono neri o meglio grigi. Qui c'è scritto che c'è qualcosa di troppo. Infatti se voi andate avanti due volte il nostro uccellino va contro il muro e non va bene. Per cui cosa faccio? Sposto questo, lo butto via e lo metto così. Vi assicuro che adesso dovrebbe funzionare. Avete visto che c'è anche un giro a sinistra? Potete vederlo anche da qua. Vi ricordo semplicemente che sinistra può diventare cliccando lì anche a destra. Lo vedete facilmente. Andiamo a vedere invece l'esercizio numero 9. Esercizio 9 introduce un altro tipo di comando. Abbiamo visto quindi vai avanti, gira a sinistra o a destra e ripeti alcune volte. Perché? Perché qui quando vedete che avete passato uno degli step nel vostro numerazione appare il tasto verde. In realtà il verde può diventare anche un verde chiaro. Perché? Perché potete aver raggiunto l'obiettivo ma avendo utilizzato troppi blocchi. In informatica quando si fanno troppe istruzioni per fare una cosa che dovrebbe essere fatta con pochi blocchi si raggiunge il risultato ma non è non è l'ottimo. E quindi qui viene segnalato. Infatti quando io andrò a valutarvi mi verrà fuori un report dove mi dice guardate questo non ha neanche cominciato. Questo sta facendolo. Questo l'ha fatto però con troppi blocchi e questo finalmente l'ha completato in maniera perfetta. Quindi vi darò la valutazione seconda di come avrete passato i vostri esercizi. Vediamo e torniamo noi. Allora questo signorino qua deve andare avanti. Quando è qua deve girare a destra e poi deve andare avanti 1, 2, 3, 4, anzi 1, 2, 3, 4 volte. Allora se devo andare avanti 4 volte invece scrivere va avanti per 4 volte scrivo qui 4 e ci metto dentro e vai avanti. Una volta che è lì basta girare a destra e andare avanti per accettare il nostro porcellino. Come abbiamo visto allora anche qui ci sono altre attività quando siete arrivate alla fine arrivate qui potete andare avanti ancora fare degli esercizi supplementari sono esercizi simpatici che vi daranno dei punteggi o se no si va direttamente alla lezione successiva. Alla fine potete avere sempre un'idea di dove siete andando cliccare qui questa freccettina qua dove c'è scritto di più e qua vedete che punto siete arrivati cosa che vedrò anch'io però in maniera molto più dettagliata per poter dare una valutazione. Questo è il programma e quindi mi sembra abbastanza semplice vi lascio operare e creare in pace. Arrivederci!